tutto su mattia furlani gli allenamenti su youtube il soprannome mattia furlani un nome che negli ultimi anni ha guadagnato sempre più popolarità nel mondo dello sport non solo per le sue performance in campo ma anche nello spazio digitale il giovane atleta italiano si è fatto conoscere grazie al suo enorme impegno e alle sue impressionanti abilità non solo nel suo sport ma anche su youtube furlani affettuosamente chiamato dai suoi fan il fulmine è un talento poliedrico che entusiasma sia per le sue performance sportive che per i suoi contenuti originali sui social media nato il 3 aprile 1999 a roma mattia ha iniziato lo sport già in tenera età i suoi genitori entrambi ex atleti hanno riconosciuto presto il suo talento e lo hanno supportato in diverse discipline dopo essere iniziato come atleta di corsa è passato poi al calcio prima di trovare infine la sua vera vocazione nel basket oggi è considerato uno dei giovani talenti più promettenti in italia la routine di allenamento di mattia furlani è impressionante e allo stesso tempo ispirante sul suo canale youtube che conta ormai più di mezzo milione di iscritti condivide regolarmente video delle sue sessioni di allenamento dei suoi progressi e offre uno sguardo nel suo quotidiano da atleta professionista